Buonasera, buonasera a tutti gli amici che seguono questi giovedì dell'editore da molte puntate, questa è la puntata numero 48, non siamo più abituati ad andare in linea come dire personalmente da soli, vedete che sto ancora sistemando lo schermo del computer perché fortunatamente abbiamo sempre molti ospiti e quindi solitamente trasmettiamo attraverso la piattaforma StreamYard. Torno invece io per salutarvi, per salutare tutte le persone che anche nel corso di questo anno 2021 ci hanno seguito, per salutarle in vista della pausa estiva insomma. E nel salutare tutti quanti io stasera vi presenterò tutti gli eventi della Ronzani Editore. Sono personalmente molto stanco, ma anche pieno di energia, di rinnovata energia perché finalmente si può tornare a fare eventi dal vivo e quindi a vedere le persone, a dialogare, a poter presentare un libro anche nella sua materialità, a lasciare che le persone vengano, ci parlino e prendano in mano e tocchino i nostri libri visto che fortunatamente, uso spesso questo avverbio ma davvero penso anche che sia una fortuna a volte, no? Ecco, poter lavorare in condizioni di creare cose belle, dico fortunatamente molti amici, molte persone apprezzano i nostri libri e il nostro lavoro. Dicevo che vi presento nel salutarvi e nel darvi appuntamento a settembre, ovviamente con l'invito di seguire tutte le dirette che continueremo a fare durante gli eventi estivi, vi presento appunto tutto quello che accadrà durante i mesi di luglio e agosto in Ronzani Editore. Ecco, si inizia da subito, da domani sera, in cui questo magnifico tour che stiamo facendo col libro di Fabio Siviero, ecco vi mostro il libro, eccolo qua, questo libro l'ultima stagione di Fabio Siviero, il contadino, è stato l'ultima figura calata nel trapasso da una stagione all'altra, tra ed union del ciclo naturale delle stagioni in perfetta armonia con il cosmo, la natura, i santi e la religione. La fine della cultura contadina significa anche questo, la fine di un'armonica relazione uomo-terra, uomo-natura, che costituiva l'essenza della sua civiltà. Sull'onda di queste parole, noi con Fabio e con altri amici che lo accompagnano solitamente nelle presentazioni, continuiamo il nostro tour e domani sera saremo al Busnelli Giardino Magico, eccolo qua, questa è la Locandina, venerdì 25 giugno, ore 21 e 15, si presenta l'ultima stagione. Ci sarò io a dialogare con Fabio, come mi piace fare, perché è un libro che mi piace molto, e poi ci sarà la partecipazione, diciamo così straordinaria, di Otello Perazzoli, è l'ultimo Toro Totela, gira con questa sua fisarmonica e canta queste canzoni di cui oramai si è persa traccia in un passato relegato quasi agli studi antropologici. Invece no, è ancora una cosa viva ed è bello sentirlo appunto, è poi nello spazio del Giardino Magico, del Busnelli di Due Ville, credo che ci sia anche proprio l'ambiente giusto per ascoltare queste note, oltre che per sentire parlare di questo libro. Poi, l'1 e il 2 luglio, quindi la settimana ventura, ci sarà un ciclo di presentazioni, queste online, e sono le uniche di tutta la serie che andrò a elencarvi, le uniche che si terranno ancora online, organizzate dall'Associazione Editori Veneti in collaborazione con l'Università di Milano, ecco, e la partecipazione anche di DigiLine, prospettive digitali, leggo per non dimenticare qualcuno degli importanti protagonisti dell'organizzazione di queste manifestazioni, perché è molto difficile organizzare, è molto difficile costruire ed è giusto che chi lavora per organizzare abbia perlomeno, come dire, la soddisfazione di essere correttamente citato e ringraziato, perché solo insieme, lavorando insieme, potremmo, come dire, fare un servizio buono alla cultura, alle persone che ci seguono, che ci ascoltano, continuando a fare quello che ci piace fare. Quindi, ecco, questo ciclo di incontri è dedicato al tema dei viaggi e dei viaggiatori, incontri scoperte e itinerari. Noi presenteremo ben due libri, la nostra piccola antologia, piccola antologia della peste, vediamo se la trovo così vi faccio anche una carrellata, un ripasso delle belle copertine dei nostri libri, eccola qua, la piccola antologia della peste, curata da Francesco Permunian e coi disegni di Roberto Abbiati e 34 nomi, arci noti o meno noti, ma tutti bravissimi, della letteratura italiana. Alle ore 18, il contributo all'antologia presenterà all'interno di questa rassegna questo libro. Poi si torna a Di sole, di vento e di mare, questo è uno dei libri di Melida Milani. Dico uno perché dal 2019, quando è uscito questo libro, la Ronzani di Tore, tenendo fede a una promessa che è stata fatta a tutta la comunità degli italiani d'Istria quando siamo andati a presentare questo libro, abbiamo continuato a pubblicare Nelida Milani, anzi grazie all'opera indefessa del curatore di tutta la letteratura istro-veneto-quarnerina in Ronzani di Tore, cioè Mauro Sambi, abbiamo radunato l'intero corpus narrativo di Nelida Milani che si intitola Cronaca delle Baracche, è diviso in tre volumi per un totale complessivo di oltre mille pagine. Il primo volume si intitola L'Osteria della Parenzana ed è uscito il 15 di aprile, il secondo si intitola Agnus Day, è uscito il 15 maggio, il terzo freschissimo di stampa, è arrivato la settimana scorsa, è uscito il 15 di giugno, che si intitola La partita è più della trilogia. Ma torniamo appunto a questo libro perché nel tema del viaggio, viaggio, viaggiatori, incontri, scoperte, ecco di sole, di vento e di mare è un viaggio, è un esodo, lo sappiamo insomma, come in tutta la letteratura di Nelida Milani, ovviamente il tema dell'esodo degli italiani d'Istria è un tema centrale, ecco, della sua poetica oltre che della sua narrativa. E quindi lì Mauro Sambi, appunto curatore di questo come di tutti gli altri volumi di Nelida Milani, eccoli qua, faccio vedere uno, il primo, ecco qua, vedete Cronaca delle Baracche, L'Osteria della Parenzana con questo disegno che è una grafica della nostra Elsa Zaupa. Ecco, quindi il 2 luglio di sole, di vento e di mare, alle ore 18, verrà presentato da Mauro Sambi. Poi, sempre in data 2 luglio, è un giorno veramente gettonatissimo per la Ronzani di Torre, scusate intanto tiro via qualche libro, in data 2 luglio si presenta uno dei nostri ultimi libri, Fortunato, autore ne è il collega, perché è un avvocato pure lui, un avvocato penalista del Foro di Napoli, Bruno Larosa, che ha scritto questo giallo davvero straordinario, che è entrato appunto a far parte della collana attraverso, diretta da quell'altra collega, nonché collega anche in casa editrice, Luisa Maestrello. Ecco, questa è la copertina di Fortunato, di Bruno Larosa. Dicevo, il 2 luglio si presenta a Napoli al Teatro Augusteo. Che prestigio, che meraviglioso luogo dove presentare i libri, io spero che ci siano tante persone e che si vendano tante copie di questo bellissimo romanzo che si presta anche proprio a essere letto durante l'estate. Ecco, sempre il 2 luglio, per questo dico che deve essere un giorno fortunatissimo per la Ronzani Editore, si presenta Il Purgatorio Non è Eterno. Voi sapete che questo è un libro che mi è molto caro, come mi è caro il suo autore, perché si è diventati amici, Claudio Uguccioni. L'anno scorso dovevamo fare tutto un tour anche in Veneto, eccetera, e questo non è stato purtroppo possibile. E quindi adesso, a distanza di un anno e qualcosa dall'uscita del volume, si riprende a portarlo in giro. Come si fa con i libri, insomma? Ecco, i libri non invecchiano. Se sono libri buoni, se sono libri belli, non invecchiano e quindi possono essere presentati in qualsiasi momento. Quindi Il Purgatorio Non è Eterno, Claudio Uguccioni e Fabio Siviero in veste di storico, perché è uno storico, al Giardino Magico di Due Ville, alle ore 18.30 presenterà Il Purgatorio Non è Eterno, ecco, che è il numero 3 della collana, attraverso sempre diretta da Luisa Maestrello e con le copertine del nostro amico Roberto Abbiati. Eccoci qua. Questa è la locandina, così vi faccio vedere un po' tutto e poi potete anche cercare attraverso le nostre pagine Facebook, il sito, eccetera, e soprattutto vi raccomando, se potete di essere presenti. Domenica 4 luglio, tanto perché, come dire, nemmeno il fine settimana ci fermiamo, tanta è la voglia di ricominciare a portare in giro i nostri libri, che ne approfittiamo anche, come dire, delle sagre domenicali per andare in giro e parlare delle cose che, ripeto, in continuazione amiamo fare. Continua il tour del Siviero, eccolo qua. Fabio Siviero, l'ultima stagione, alla terza fiera dei prodotti agricoli della Val d'Alpone e della Val Tramigna, a Cazzano di Tremigna, in provincia di Verona, si presenterà questo libro. Voi direte che, come dire, che voglio esserci dappertutto, non è vero, ma in questo caso ho fatto di tutto per esserci, perché voglio andarci io a parlare di questo libro alla fiera dei prodotti agricoli, mi sembra una cosa meravigliosa. Agricoltura assieme ad agricoltura è il massimo a cui potessi aspirare. Eccola qua, vedete che ci sono molti comuni che patrocinano questa straordinaria iniziativa, oltre che la regione Veneto e quindi, come dire, una profonda sensibilità per la terra, la coltivazione, l'organizzazione dell'agricoltura e quindi anche la salvaguardia del territorio, perché la cosa importante che fa chi lavora la terra è che ne preserva il territorio, che è la cosa alla quale dovremmo badare oramai con sempre maggiore e sempre più consapevole attenzione. Ecco, è giustamente questa fiera di prodotti agricoli, ma anche, ripeto, di cultura del territorio è patrocinata dai comuni di Soavi, di San Borifaccio, di Montechieri-Crosara, di Roncadi, Veste Danova, di Monteforte dal Pone, di San Giovanni di Larione, da Cazzano di Tramigna, dove saremo noi, e appunto dalla regione Veneto. Si esporranno prodotti, macchinari agricoli, sarà una festa, eccetera, e, cosa dal mio punto di vista molto interessante, si presenterà anche un libro, quindi noi saremmo molto felici di partecipare. Poi saltiamo l'evento del 10 luglio, al quale dedicherò la parte finale di questa mia chiacchierata ed esposizione con voi, e andiamo al 15 luglio. Giovedì 15 luglio, in piazza al Palazzo del Comune di Creazzo, Francesco Iposi presenterà il suo Sentire e Comprendere, la filosofia biografica di Antonio Gramsci. Eccolo, questo è il volume, un piccolo succulento volume che può far appunto anche trascorrere qualche ora di pensiero, perché non è un libro facile o semplice, sì, è un libro che volutamente l'autore ha cercato di rendere semplice, perché è un libro, come dire, volutamente di dascalico, se così possiamo definirlo. Però, sapete, quando c'è di mezzo Antonio Gramsci c'è sempre da fare, come dire, pensieri elevati. Ecco, un invito a pensare appunto anche a questa filosofia biografica intesa proprio anche come cura del sé. È un altro dei libri che ha sofferto la pandemia, perché anche in questo caso, con Francesco, amico e autore di questo volume, avevamo una serie di presentazioni già organizzate e che abbiamo dovuto mandare. Poco male, siamo qua, siamo, come dire, più vivi evolitivi di prima e quindi ricominceremo il nostro giro. Ci sarò anch'io, ma questa volta andrò ad ascoltare Claudio Rizzato e Mario D'Angelo che parleranno appunto di sentire e comprendere che Claudio Rizzato è ovviamente il nostro Presidente, nonché Presidente anche della Fondazione Norbera Busetto, che è la Fondazione dei Democratici Sinistra per la provincia di Vicenza, nonché appassionato e direi anche qualcosa di più esperto di molte cose che riguardano Antonio Gramsci, perché credo di poter dire che la cultura gramsciana sia molto, molto importante anche poi nella cultura di Claudio, così come lo è nella mia e di molti altri miei amici, insomma, ecco. Quindi chi potrà giovedì 15 luglio 2021 alle ore 21 può venire a trascorrere una spero bella serata insieme a noi. Eccoci qua. E andiamo a finire al 23 luglio, ancora continua il tour di Fabio Siviero con l'ultima stagione e saremo alla Biblioteca di Breganze. Ora il nostro sommo ed efficientissimo ufficio grafico non mi ha ancora preparato le locandine perché insomma manca un mese e mezzo, bisogna lasciarle respirare anche loro perché altrimenti si licenziano e mi lasciano qua da solo, allora sì che sarebbero rogne. E quindi mi limito solamente a dirlo e a ripeterlo. 23 luglio, l'ultima stagione di Fabio Siviero, Biblioteca di Breganze, ore 20 e 45. Il 30 agosto invece torniamo al Busnelli Giardino Magico di Due Ville. A questo proposito io ringrazio il giornale di Vicenza per l'articolo che ci ha dedicato proprio ieri, 5 titoli ronzani al Busnelli e ringrazio anche Nicoletta Martelletto che della pagina culturale è la responsabile. E quindi anche lì il giornale ha dato notizia di queste nostre attività in un comune che ci ha molto ben accolti perché noi eravamo prima in un altro comune come sede. Abbiamo questa nuova sede a Povolaro di Due Ville e il comune di Due Ville veramente ci ha accolti a braccia aperte e quindi ci consente anche di fare varie manifestazioni presso le sedi pubbliche e comunali. Insomma ecco. Quindi il 30 di agosto torneremo, dicevo, al Giardino Magico di Due Ville con Hitchcock. Eccolo qua. Qui si passa alla saggistica, o meglio si torna perché anche Siliero è un saggio. Hitchcock, il prurito della pistola. Ecco poi c'è tutta una parte introduttiva di Franco Marucci, del professor Franco Marucci, già professore di letteratura inglese alla Università Ca' Foscari di Venezia, credo per circa un quarto di secolo, circa 25 anni professore nella nostra università veneziana. Franco Marucci che invece è fiorentino e che verrà a trovarci appunto il 30 agosto per illustrare questo suo libro che presenta una lettura del tutto innovativa dell'intera filmografia hitchcockiana e poi seguirà anche la proiezione di un film. Quindi al Giardino Magico di Due Ville, il Giardino Magico di Due Ville è l'ambiente adatto proprio per questo tipo di evento. Ecco. Andiamo avanti abbastanza di corsa. Il 4 settembre invece torneremo come sempre a cavallo tra fine agosto e primi di settembre a Salgareda, alla Casa delle Fate o alla Casa sul Piave di Goffredo Parise. È un posto che ci è caro, abbiamo molti amici, Moreno Vidotto che è non solo il proprietario ma anche l'animatore di molte iniziative che avvengono in Casa Parise e Claudio Ororato che è come dire credo l'artefice assieme a Moreno anche di molte di queste serate culturali. Lì rincontreremo, dedicheremo questa serata alla poesia e presenteremo tutte le cose nuove e belle che abbiamo fatto quest'anno anche in tema di poesia. Insomma, ecco. Il 7 settembre invece torneremo con l'ultima puntata presso il Giardino Magico di Due Ville che ci vedrà, diciamo così, protagonisti per queste cinque serate estive e lo faremo con un libro che ci è molto caro perché ci è caro non solo il testo di questo libro ma anche il suo autore e cioè Giasso, storia da una valle, autore ne è Renato Giaretta. Stesso a sorte di tutti i libri del 2020 avevamo un tour che sarebbe stato un tour de force per presentare questo libro ovunque perché è un libro bellissimo e anche posso dire di caratura sicuramente nazionale ma va detto che essendo la storia di una famiglia di una valle veneta, della valle di Posina molti di noi a cominciare dalla mia stessa famiglia ci riconosciamo in questa storia di guerre, di emigrazione eccetera eccetera perché io dico sempre che gli altri fanno presto a parlare ma il Veneto nella prima guerra mondiale e quindi noi siamo veramente stati massacrati da quella guerra lì perché non solo sono morte le persone e questo sarebbe già tutto ma sono state anche distrutte le opere delle persone, quel poco che questi poveri anime avevano è andato distrutto ecco e quindi il racconto della storia di questa famiglia, una famiglia che vive sulla propria pelle la prima guerra mondiale, l'emigrazione, la seconda guerra mondiale, l'emigrazione in Australia ma l'Australia in questo caso vale il Piemonte o il Belgio o la Svizzera o il Chicago o il Venezuela dove due fratelli, dove cinque o sei fratelli di mio padre sono andati e quattro poi sono tornati e due non hanno più fatto ritorno dall'anno nel senso che hanno creato la loro vita e la loro famiglia in Venezuela e lì ho i miei cugini ancora eccetera eccetera, questa è la storia di quasi tutte le famiglie veneti ecco perché la storia raccontata da Renato Giaretta in questo Giasso è una storia che ci tocca da vicino ed è un libro che ha venduto bene ma che avrebbe stravenduto ancora di più se avessimo potuto portarlo in giro come avremmo desiderato poco male ripeto perché riprendiamo a parlarne, riprendiamo a presentarlo e il 7 settembre al Giardino Magico di Due Ville alle ore 21 Renato Giaretta presenterà Giasso Storia da una valle mi sembra di aver avuto l'anticipazione da Renato che sta organizzando uno spettacolo assieme a un altro nostro amico Stefano Ferrio e ci saranno letture, ci saranno musiche, insomma io mi aspetto una meravigliosa serata e veniamo ora all'evento clou della nostra estate ma non solo della nostra estate, della nostra storia è una storia che compie 5 anni dalla prima pubblicazione, eccoci qua, vedete questo 5 con lo sfondo di una serie di nostri libri dove si riconoscono Cappaletta Lager, la piccola antologia della peste, i Saturnini malinconici un po' deliranti di De Ciglia e poi si riconoscono i libri della colla attraverso, il nostro Guccioni, Duranti, insomma ecco la storia nostra attraverso le nostre copertine dicevo Ronzani Editore compie nel 2021 5 anni perché il primo libro pubblicato è stato Sillabari Veneti di Goffredo Parise con il quale abbiamo emblematicamente dato avvio alle pubblicazioni a marchio Ronzani Editore la sede nuova che ci ospita da un anno e mezzo non è mai stata inaugurata e così quest'anno abbiamo l'opportunità, l'occasione, la gioia la voglia di festeggiare assieme a molti amici appunto i 5 anni e la nuova sede quindi sabato 10 luglio alle ore 16 inizieremo con un evento come dire ufficiale e culturale, siamo ospitati dal comune di Dueville, sala superiore del centro Arnaldi e terremo, abbiamo organizzato una tavola rotonda sul valore del libro come medium di unione culturale si intitola il libro Ponte della Cultura, ecco sul libro come medium sono stati come dire spesi fiumi di inchiostro ma non si smette di parlarne perché è semplicemente così, il libro mi diceva il mio compianto amico e grande editore Alessandro Olski ci ha permesso di arrivare sulla luna, cioè la conoscenza trasmessa attraverso il libro attraverso la sua replicabilità in copie identiche che raggiungono quante più persone possibili ha creato la cultura occidentale e quindi è il più importante, il più straordinario medium culturale che la civiltà mondiale conosca, non ci sono santi, è così e basta, è oramai un dato di fatto acquisito a qualsiasi disciplina storica e scientifica, ecco e quindi a questo tema dedicheremo questa tavola rotonda in cui saranno presenti il sindaco del comune di Dueville, Giusy Armiletti che ne approfitto fin da subito per ringraziare anche per l'ospitalità che ci ha dato unitamente devo dire all'assessore alla cultura Lidia Zocche che è venuta anche a farci visita nella nostra sede in una mattina veramente di condivisione di idee, di progetti e di programmi che è l'assessore alla cultura del comune di Dueville ma non solo perché è anche il coordinatore del rete delle biblioteche vicentine, anche Lidia sarà ovviamente membro della tavola rotonda e ci parlerà. Poi ci sarò io che rappresenterò l'editore, avrei voluto che ci fosse Luisa, Luisa è proprio nell'imminenza del parto, lo si può dire è un evento lietissimo in Ronzani Editore con Luisa e Dario che sono rispettivamente Luisa, la mia condirettrice e Dario l'amministratore delegato di Ronzani Editore diventeranno genitori, io sono felicissimo e quindi ben volentieri vado come dire anche al posto di Luisa alla tavola rotonda. Poi ci sarà Marco Ghiotto, amico, vicentino, scrittore e quindi porterà come dire la parola degli autori e poi ci sarà Roberta Allievore, amica, professoressa del liceo Quadri ed è responsabile di un gruppo di lettura, possiamo chiamarlo così, della diffusione della lettura anche tra i giovani siccome assieme alle scuole stiamo portando avanti un'iniziativa proprio dedicata alla diffusione della lettura, senz'altro sabato 10 luglio Roberta ci saprà dire delle cose molto interessanti anche da questo punto di vista. A moderare l'incontro ci sarà l'amico e socio della Ronzani Editore Giovanni Stefano Messuri. Poi dalle 18 inizia la festa, mi viene da dire, quindi si verrà qui in sede di Ronzani Editore, Povolaro, via San Giovanni Bosco numero 11 barra 2 e ci sarà questo open day, chiamiamolo così, a gruppi di un tot di persone sempre nel rigoroso rispetto della normativa anti-covid, quindi con ingressi contingentati, controlli, tutto a posto, tutto a posto, assolutamente si entrerà e quindi le mie colleghe potranno illustrare i programmi, vedere la sede dove nascono i nostri libri, far vedere l'organizzazione sia della produzione che della creatività che della logistica di una casa editrice moderna, insomma ecco. E poi si ascolterà della musica, si mangerà qualcosa, non credo che, cioè sarà un bel aperitivo rinforzato, non credo che dopo, che dopo questo, questo rinfresco che faremo qualcuno abbia voglia di andare ancora in casa, a casa a mangiare, insomma ecco. Vogliamo che sia una festa, esporremo i nostri libri, venderemo sotto costo i libri che sono rientrati magari dalle librerie che hanno qualche macchiolina e che quindi non si possono più riportare in giro e quindi faremo anche un mercato librario a ottimi prezzi per tutti quelli che volessero poi venire a trovarci, insomma ecco. 18 e 26 io praticamente sono stato anche abbastanza veloce, senz'altro entro i limiti che cerchiamo di imporci che sono questa mezz'oretta che poi magari diventa anche un'ora se si parla di cose tipo la settimana scorsa quando con gli amici di Lazy Dog abbiamo presentato questo progetto Tupigrafia che è un progetto che è stato attivato con un crowdfunding su Kickstarter, beh ecco quindi vi annuncio anche che hanno fatto gol, cioè hanno raggiunto la soglia a cifra minima, io sono felicissimo, noi abbiamo portato anche noi la nostra parte di acqua a quel mulino anche in vista di sempre maggiori collaborazioni perché? Perché solamente collaborando, come dire, si cresce, si aumenta la propria visibilità, si aumenta la qualità delle cose che si fanno e via dicendo insomma ecco. Non mi resta quindi che ringraziarvi ancora una volta per la vostra assiduità nel seguire quello che fa la Rozani Editore che quest'anno arriverà a 50 pubblicazioni ed è veramente un traguardo straordinario che ci permette di raggiungere lidi e obiettivi che sarebbero stati impensati anche solo, impensabili anche solo fino a un paio di anni fa, ecco vi ringrazio molto. Vi prego di continuare a seguirci attraverso tutti questi eventi, vi invito a tutti gli eventi se sarete in zona e vi do appuntamento al secondo giovedì di settembre, in questo caso, quando riprenderemo dalla puntata numero 49 a quel punto le nostre trasmissioni. Grazie ancora, buona serata a tutti, arrivederci e grazie a nome di tutta la Rozani Editore.